Sì, grazie Presidente. Vorrei ringraziare il collega De Priamo per aver presentato questa delibera, questo atto in Commissione e sposato poi da tutta la Commissione Ambiente. Questa è la prova che noi della maggioranza, della Commissione Ambiente, non vogliamo fare ostruzionismo agli atti dell'opposizione, anzi agli atti che riteniamo validi e importanti per questa città, anche per rendere onore alle famiglie, come per esempio la famiglia del Capitano Romani. Chiaramente noi vogliamo dare un contributo profondo alla loro famiglia facendo questo gesto, un piccolo gesto ma allo stesso tempo è un gesto di sensibilità, un gesto di umanità dove la politica può intervenire ed è infatti intervenuta. Perciò noi daremo parere favorevole a questa delibera, ringraziando ancora il consigliere che ha presentato questo atto e allo stesso tempo speriamo e ospichiamo che questi atti, questi dispositivi possono in qualche modo ridare speranza a quelle famiglie che vedono nell'amministrazione una possibilità, un riscatto. Grazie. Grazie. Grazie.